Intanto vado a salutare il dottor Giuliano Mignini, benvenuto, buonasera. Grazie dottor Ferbetti, grazie a lei e ai radioascoltatori, sono qui. Grazie a lei di questo intervento, la faccio salutare anche con Paolo Franceschetti. Buonasera, ci sono anch'io, salve a tutti gli ascoltatori. Bene, vi sentite, no? Facciamo il check. Sì, sì, la sento, sento tutto. Allora, non so se Paolo voleva dire un piccolo aneddoto, credo, poi passiamo alla nostra chiacchierata. Che volevi dire Paolo? Mi ricordo, come ci siamo conosciuti io e il dottor Mignini, non so se se lo ricorda anche lui, ma penso di sì. Un giorno che stavo da Gabriella Carlizzi dopo un articolo che avevo pubblicato sul mostro di Firenze, in cui mi disse, guarda, adesso che hai pubblicato questo articolo sicuramente tenteranno o di ammazzarti oppure di arrestarti. Allora, dopo pochi minuti, non mi ricordo se telefonò a Mignini o lei telefonò a lui, adesso questo non lo ricordo, comunque si sentirono al telefono con il dottor Mignini e me lo passò. E la prima domanda che gli feci fu, scusi, ma avevate intenzione di arrestarmi? E lui disse, ma guardi, per quanto mi riguarda la mia procura non ho notizie di questo, non so altre ovviamente. E così, diciamo, fu questo il primo approccio, perché praticamente io ero terrorizzato da questo colloquio con Gabriella, che veramente mi aveva un po' destabilizzato, insomma, quindi poi la prima domanda che feci al dottor Mignini fu questa qui, insomma, se mi arrestava. Sì, sì, me lo ricordo, me lo ricordo. Beh, la signora Carlizzi aveva questo modo di… si sentiva come in dovere di proteggere, di aiutare persone che le erano vicine, che lei riteneva importanti, quindi mi ricordo questo particolare, sì. Allora, sì, questo è ovviamente carino come primo approccio, ancora è tra noi, quindi prima non è stato arrestato. Allora, ovviamente, come abbiamo detto in serie di presentazione, il dottor Mignini chiaramente ha seguito tutto il filone, il cosiddetto perugino, no, dell'inchiesta sul mostro di Firenze legata soprattutto alla figura del medico Narducci. Io partirei però da un'intervista che il dottor Giuttari nel 2014 aveva fatto, in cui racconta che l'inchiesta congiunta Perugia-Firenze era un passo dalla verità, ma che tutto era stato bloccato dalla procura fiorentina. Quindi la prima domanda è questa, cioè vi sentivate vicini a una svolta, dopo i vari risvolti comunque che erano emersi, si è cavato insomma a un punto importante di questa indagine. Guardi, l'indagine è stata molto complessa, è durata una decina d'anni, perché ogni tanto poi si sviluppavano dei filoni sempre nell'ambito dell'indagine che richiedevano approfondimento. Io mi ricordo che quell'indagine mi impegnava quotidianamente, avevo il mio lavoro quotidiano, poi avevo questa indagine che era veramente qualcosa di unico. Il momento nel quale intervenne questa iniziativa della procura fiorentina era un momento abbastanza importante, come ce ne erano stati anche altri, peraltro. Io ho provato a ricordare un po' quello che facevo. C'erano diversi fronti sempre di questa vicenda che erano aperti. Io mi ricordo che in quel momento, proprio poco prima, qualche giorno prima, mi ricordo che stavo occupandomi proprio della dinamica dell'ipotizzato omicidio, perché era emerso che c'era un testimone, ora preciso fra l'altro che la vicenda sia conclusa, la vicenda giudiziaria poi dirò l'evoluzione di questa vicenda, quindi ormai qualche anno possiamo parlare tranquillamente. C'era un cacciatore di palombi che si trovava sulle colline del Trasimeno, che aveva visto praticamente, conosceva l'imbarcazione del Narducci e conosceva il Narducci e vide questa imbarcazione il giorno in cui il Narducci scomparve, verso le due e mezza, le tre più o meno dell'8 ottobre, e poi continuò a cacciare, a guardare, non guardava sempre questa scena, perché non pensava che ci fossero cose particolari. Ha descritto quindi la partenza di questa imbarcazione del Narducci dalla darsena di San Feliciano, l'estremità orientale del lago, verso l'isola Polvese, la parte meridionale dell'isola Polvese, che è la più grande, praticamente più o meno il punto nel quale sarebbe stato ritrovato il cadavere a cui allora fu attribuita l'identità di Narducci e vide una imbarcazione piuttosto grossa, avvicinarsi e poi perse di vista, poi riguardò, poi a un certo punto questa imbarcazione non la vide più. Se ben ricordo, ero impegnato in questi accertamenti relativi alla dinamica del delitto, poi c'erano anche altri aspetti, perché veramente era un'indagine che aveva vari fronti, c'era il fronte fiorentino, c'era il fronte di tutta l'attività di depistaggio che era avvenuta, c'era l'attività più o meno legata alla morte, quindi alle cause di morte, anche il discorso americo legale, mi ricordo che l'anno dopo, quindi non è che questa perquisizione, questa iniziativa fiorentina bloccò le indagini, indubbiamente le turbò profondamente, però mi ricordo che l'anno successivo io voglio accertarmi fino in fondo, in una maniera con uno scrupolo estremo, anche perché avevo due colleghi che mi erano stati affiancati e mi avevano chiesto di essere certi che il cadavere ripercato non poteva essere quello del Narducci, e mi ricordo che nel 2007, se ben ricordo, feci un'ulteriore consulenza, mi pare la quarta o la quinta su questo punto e nominai il colonnello Garofano del RIS Carabinieri di Parma e il quale poi confermò in maniera ancora più drastica le conclusioni precedenti. Poi c'era anche un altro punto, mi ricordo, che avevo fatto delle deleghe di indagine relative, avevo incaricato il dottor Giuttari e il Gides che stava per finire la sua attività perché scadeva come periodo di tempo di messa a disposizione delle due procure, un'indagine sulla taglia che fu disposta all'indomani del delitto degli scopeti e fu revocata circa due mesi dopo. Io cercavo di capire un po' di questa taglia perché era stata revocata. Insomma, ecco, questi erano, mi pare, mi pare, ricordo che questi erano alcuni dei punti che io stavo trattando in quel momento. Ecco, questo è quello che ricordo perché lei consideri che sono passati quasi dieci anni. Ah sì, ah sì. Ecco, invece andando all'inizio, come e quando nasce, diciamo, l'indagine sulla morte o sulla figura di Narducci? C'è quella famosa intercettazione di cui molto si è parlato, ti facciamo fare la fine del Medico del Morto del Lago che poi è stata interpretata successivamente da qualcuno come qualcosa che non c'entrava nulla con la storia di Narducci. Ecco, è nato da quella intercettazione o c'erano già altri elementi? No, dunque, allora, nelle indagini giudiziarie succede che, e questo è successo anche, la vicenda di Narducci nasce, diciamo, indirettamente nell'ambito di un'altra indagine, poi le spiego quello che è successo. Nell'ambito dell'indagine sulla vicenda di Narducci sono emerse notizie di reato che hanno dato vita ad altri procedimenti o di competenza perugina o di competenza di altre autorità. Quando c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, quando emerge una notizia di reato, il magistrato deve prenderla in considerazione, trattarla se competente, trasmetterla all'autorità competente se invece è incompetente, se lui è incompetente. Ora, c'era stata questa serie di telefonate, erano telefonate che una estetista di Foligno aveva ricevuto e queste telefonate si capisce benissimo che vengono da due persone, da un uomo e una donna. All'inizio non ero io il titolare del procedimento, era, mi pare, se non sbaglio la collega, la procuratore ha giunto, la collega della Monica, se non sbaglio, poi il fascicolo è stato passato come avviene spesso nelle procure che sono necessità dell'ufficio e a un certo punto queste telefonate, che erano telefonate stranissime, cominciarono a fare allusione alla questione del mostro di Firenze e non mi ricordo l'epoca precisa, mi pare che grosso modo, questo grosso modo, queste telefonate, la svolta un po' di queste telefonate verso la vicenda fiorentina si verificò più o meno nel periodo degli attentati del 11 settembre, questo ricordo non c'entra niente ovviamente con la vicenda, ma il periodo era quello e ci eravamo da poco trasferiti al nuovo edificio, perché prima era in centro il edificio e quindi cominciarono queste telefonate e ci furono questi riferimenti a Pacciani e a Narducci, la vicenda Narducci, questo io vorrei che forse non è stato spiegato, non è stato… la vicenda Narducci di Nuova Perugia, di questo medico se ne parlava dalla sua morte, era un continuo, era una leggenda metropolitana ancora di cui parlava tutta la città, io mi ricordo, mi ricordo che ero magistrato, ero a Terni, magistrato, ero stato a Volterna come aperatore, poi in quel momento mi trovavo a Terni e mi ricordo che c'era un prescettivo da un continuo, quindi non è che il personaggio Narducci è un personaggio nuovo, viene fuori così, no, no, era un personaggio che si parlava in relazione a questa vicenda dalla sua morte praticamente, in certe zone anche prima, come per esempio nella zona del lago e quindi questi riferimenti, vengono fatti questi riferimenti, io faccio una delega di indagine alla squadra mobile, cerco di capire che attinenza potrebbe avere questa vicenda con l'estetista perché il procedimento era quello, la mobile mi risponde e io mi dà indicazioni su persone informate sui fatti che potevano dare delle esperienze, io sento il settimo regale di posto e la domenica di posto di pescato di canale che stava di essere chiamato e non fu chiamato, si trovava all'anno e poi sentì il pescatore Ugo Baiocco che aveva rinvenuto, secondo una certa ipotesi perché secondo altre ricostruzioni hanno stati i vigili del fuoco che avevano visto il cadavere, questa è una cosa un po' strana qui, ma secondo le indagini dell'epoca era stato questo pescatore che aveva visto il cadavere, il medico regale mi parlò che gli era stato riferito da una persona di sua conoscenza che questo cadavere presentava dei segni di lesioni e poi sentì altre persone e questa ipotesi cominciò ad essere confermata, mi ricordo che c'era anche un appuntato dei carabinieri che era presente sul pontile che aveva richiamato l'attenzione delle autorità presenti su questi segni che a lui sembravano di lesioni ma fu zittito e quindi ritenne di dover aprire il procedimento penale anche perché per ipotizzato omicidio, anche perché le cause di morte ufficiali erano assolutamente, questo era un altro fattore che in sospettiva, praticamente c'era uno spiegamento di forze incredibile, c'era anche il questore che non aveva alcuna veste per essere presente perché non è un'autorità di polizia giudiziaria ed era presente fin dal momento del rinvenimento del cadavere, quindi da Perugia a Magione si impiegano, diciamo era presente nel momento in cui il cadavere viene issato sul pontile come dimostra una foto, come dimostrano delle foto che sono state scattate da un fotoreporter della nazione, del quotidiano che si legge a Perugia forse il più diffuso e quindi c'era questo spiegamento di forze incredibili, c'era la squadra mobile, c'erano i carabinieri della stazione, c'era un divieto assoluto di prendere contatto, di fotografare il cadavere che praticamente non fu fatta l'autopsia, non fu spogliato in pratica, fu spogliato solo parzialmente, non fu misurata la temperatura rettale, non fu fotografato, quindi non fu fatto praticamente niente, questo fu e nonostante questo il medico, poi è stato anche lui la dottoressa che fu chiamata doveva solo accertare la morte e diciamo dichiarò che si trattava di un annegamento per accertare il quale occorre l'autopsia ed esami specialistici da probabile episodio sincopale, quindi un discorso di disgrazia, ma fondato sul niente, perché non era stato fatto niente, quindi la cosa a me, tutti questi elementi c'erano invece dei riferimenti a possibili azioni violente nei confronti di questa persona che per noi era scontato che in quel momento fosse Narducci di aprire il procedimento penale, poi il procedimento per le minacce è proseguito per conto suo, io devo dire che poi purtroppo l'ho seguito ma non con l'impegno con cui ho seguito quell'altra storia, perché poi c'è stato poco dopo, circa un mese dopo, la richiesta di collegamento di indagini da parte della Procura di Firenze, il 9 novembre 2001 e quindi io poi mi sono concentrato sull'altro procedimento, questo procedimento per le minacce è finito con una condanna patteggiata in cui un soggetto, un personaggio che aveva un'inflessione tipica della zona di Foligno Spoleto, l'inflessione linguistica italica che è diversa dal perugino e quindi era un personaggio che si è addossato l'intera responsabilità del fatto, ma dalle indagini dei carabinieri del RIS di Roma, c'è un gruppo specializzato nell'analisi della parlata, quindi dell'individuazione dell'origine linguistica del parlante, c'era anche una donna di origine piemontese e lui se invece questo soggetto si è assunto tutta la paternità della vicenda, una cosa molto strana ed è stato condannato, ha patteggiato, quindi è stato condannato. Questa è la conclusione del procedimento per le minacce che è andato per conto suo e io poi l'ho seguito fino al dibattimento, poi è stata la condanna. Questa è l'origine delle indagini. Posso dire anche che quando iniziamo poi le indagini tutto quello che è sopraggiunto non ha fatto altro che confermare l'ipotesi che era stata formulata, finché a un certo punto ho deciso, qui non è stato fatto niente all'epoca, devo nominare un consulente che scelsi di fuori, una persona di cui mi avevano tutti parlato un gran bene che ritenevo e ho avuto la conferma poi che ha svolto un lavoro egregio dal punto di vista scientifico, il professor Giovanni Pierucci, titolare della medicina legale di Pavia e feci fare una prima consulenza ripetibile sugli gatti, gli dissi lei che cosa può dirmi di questo cadavere, c'erano le foto scattate dal giornalista di nascosto, non c'era altro e lui mi disse che c'era qualcosa che non gli tornava perché un cadavere è rimasto 5 giorni in acqua, per di più nel mese di ottobre non ha una trasformazione cadaverica così pronunciata come l'aveva invece quello ripescato a Sant'Arcangelo del Trasimerico e quindi era necessario fare l'autopsia e farla d'urgenza e quindi poi io lo nominai anche per l'accertamento autoptico, ex articolo 360, accertamento irripetibile che vale per il dipattimento e venne fuori tutti quei risultati clamorosi che sono venuti fuori e che sono stati poi confermati in genere giudiziaria, cioè la morte per omicidio, per strozzamento, infatti c'era la frattura vistosa del corno superiore sinistro della cartilagine tiroide avvenuta in vita, questo è stato accertato tra le conclusioni dell'autopsia, c'era l'uso di neperidina, ma un uso non un uso massiccio, era un uso costante, di neperidina c'era e soprattutto la questione più clamorosa che per tutta una serie di elementi, il cadavere di Sant'Arcangelo era brachicefalo, quell'altro il Narducci, oggetto dell'autopsia a Pavia era suddolicocefalo, il primo non aveva i capelli, quell'altro sì, gli organi interni del Narducci erano conservati, soprattutto l'encefalo, in maniera incredibile e questo sarebbe stato impossibile se il cadavere avesse subito le trasformazioni cadaveriche dell'uomo del pontile che era in uno stato quasi di una faccia negroide che è quella che deriva dalla dilatazione dei gas degli organi interni, quindi una situazione e c'era anche del cattivo odore, quindi c'era proprio una situazione molto avanzata, l'encefalo non poteva conservarsi come si è conservato. E poi c'è l'elemento ultimo, l'elemento della vestizione, l'uomo ripescato aveva dimensioni addominali che erano state furicate dal professor Morelli che era il capo del Narducci nel reparto di gastroenterologia, le calcolò all'incirca su una taglia di pantaloni di 60, ma il cadavere che era quello del Narducci aveva una taglia 48 small chiusa in punto di vita e per di più, sotto la taglia vi era un telo, un telo che non si capiva che funzione potesse avere, sono state avanzate da esperti che sono stati chiamati dall'assistente del professor Pierucci, oggi si è parlato di una ritualità massonica arcaicizzante, di tipo punitivo, ma io su questi simbolismi l'attività giudiziaria richiede delle conclusioni rigorose, oggettive, i simbolismi si prestano a spiegazioni polivalenti, non hanno un significato certo, l'unico significato certo è che quel telo c'era nel Narducci, ma non era stato messo all'uomo ripescato secondo quello che hanno dichiarato, tutti quanti gli addetti alle pompe funebri, questo è il significato che può valere dal punto di vista giudiziario, senza trascurare altri possibili significati, poi in un omicidio era un significato anche l'altro da considerare, però quello certo è questo. Ecco quindi non si sa l'altro cadavere che non è mai stato identificato ovviamente? No, no, ho provato, ho riprovato ma lei non ha idea, mi sono reso conto perché sa, poi andiamo a vedere, poteva essere di Magione, poteva essere di Perugia, poteva essere di Cortona, poteva essere di Arezzo, sa lì siamo in un incrocio di province, di regioni, anche cioè è un discorso, sono tanti comuni, Castiglione del Lago, sa lei non ha idea di quante persone muoiono in un determinato periodo, me ne sono reso conto facendo questi accertamenti, non siamo riusciti, sono stati momenti in cui sembrava che fossimo vicini, ecco per esempio poco prima della perquisizione, mi pare alcuni mesi prima credevamo di aver trovato perché c'era una somiglianza molto forte, poi invece abbiamo capito che non si trattava di questo, quindi non è stato ritrovato questo soggetto, di questo non si sa più niente, non si sa che fine a fare. Quindi diciamo per magari far capire, viene ripescato il cadavere non identificato in sostanza e poi non si... No, il cadavere all'epoca fu riconosciuto come in Arducci, ma questo l'abbiamo capito però successivamente, nessuno di noi poteva immaginare un'ipotesi simile, l'abbiamo capito quando si è aperta la bara e l'abbiamo visto tutti, era un discorso, mi disse il medico legale, guardi qui, certo che non tornano i conti, non torna niente qui. E questo scambio sarebbe stato fatto in un altro luogo, non sul pontile? No, la morte poi non ci sono segni di annegamento nel Narducci, non ci sono le diatome, quindi è morto in circostanze... Narducci è morto in circostanze sconosciute, con però questa frattura del corno superiore sinistro della cartilagine tiroide per strozzamento e l'altro è stato ritrovato in acqua, non sappiamo nemmeno l'altro come è morto, perché è stato trovato in acqua, ma qui è tutto, purtroppo non avrei mai immaginato che ci saremmo trovati di fronte a risultati così clamorosi, contestati dalla famiglia Narducci, ma poi confermati a livello giudiziario dal provvedimento conclusivo del procedimento relativo all'omicidio, ai regati relativi al doppio cadavere e confermati dalla ordinanza del GIP del Robertis, del procedimento 1845-0821, contro cui fu fatta impugnazione in Cassazione dai Narducci, la Cassazione l'ha dichiarata inammissibile, quindi era inammissibile di partenza, ma ci ha voluto un provvedimento, ha voluto fare il ricorso e è stato come era prevedibile dichiarato inammissibile, quindi questa è la conclusione processuale, con piena conferma e anche dei rapporti fiorentini del personaggio, che erano emersi, piano piano via via sono emersi, poi era un continuo, ecco perché ne dico che noi ci vivevamo su vari ambiti, anche perché poi per questo dispiego di personalità che quel giorno sono lì, il fatto che appunto sia stato ucciso, ovviamente a quel punto vi siete concentrati sul perché? Perché certo, e lì si è partiti, si è andati a Firenze, lì avevamo già questo collegamento di indagini, ecco in quell'occasione a parte ho conosciuto Canessa, l'ho conosciuto subito, abbiamo lavorato molto bene, diciamo fino a un certo periodo, poi sono subentrati dei problemi, scusia che devo, sono subentrati dei problemi così non con lui, devo dire, e quindi a un certo punto questo collegamento di indagini è finito, anzi Firenze aveva richiesto, voleva il fascicolo Narducci, io mi sono opposto perché l'omicidio era venuto nel lago Trasimeno che è nell'attuale Umbria e quindi ho vinto questo contrasto in Procura Generale della Cassazione, quindi a un certo punto il rapporto si è rotto, era 2006, 2005, 2006, questo è il punto insomma. Ecco dicevo prima della leggende che giravano già all'epoca, è possibile che all'epoca Narducci fosse un soggetto attenzionato e per non far scoppiare lo scandalo ovviamente ignoti hanno deciso di eliminarlo perché c'è anche questa testimonianza di un pescatore che raccontò che un poliziotto che poi a quanto pare si è accettato fosse Emanuele Petri che poi come sapete proprio in quegli anni della resumazione viene ucciso sul treno dalle cosiddette o fantomatiche nuove BR, gli aveva raccontato di un inseguimento nei pressi di Cortona verso questo Narducci, poi a quanto pare successivamente questa versione insomma non venne confermata dallo stesso pescatore? No, 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 non è vero, no, 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 c'è stata diciamo come avviene purtroppo avviene spesso, io feci un incidente probatorio con l'assunzione di questa, di varie persone che qui c'è, deve tener conto, sono state situazioni in cui era necessario garantire garantire le fonti di prova perché purtroppo sono state diverse situazioni di reticenza che hanno dato vita o di false dichiarazioni, dato vita a procedimenti ulteriori e mi sono trovato di fronte a testimoni spaventati che non se la sentivano di confermare certe cose perché, perché confessavano, io mi sono trovato di fronte a varie situazioni di questo tipo, confessavano di avere terrore, mi ricordo uno, diciamo in certo ambiente, non mi ricordo che parole un po', ma insomma io quindi dovessi fare poi questo incidente probatorio e assunti questo, questa persona in generale le persone, però ecco il discorso lui confermò, poi certo di fronte alle, nel contraddittorio delle parti, di fronte al contrasto molti testimoni cercano di, questo succede, riducono il clamore di quello che possono aver detto, questo è così, di fronte al PM si aprono, questo purtroppo, questo è un fatto che così ho avuto l'impressione, però che le confidenze del Petri, cioè che il Petri seguiva il Narducci, me lo confermò una persona insospettabile, che non conosceva questo pescatore, la moglie di Calamandrei? Un anno dopo circa, e non si conoscevano assolutamente, io rimasi sorpreso perché questa persona mi raccontò che era stato a trovarla, era in un istituto di suore lei, e le aveva fatto domande su questo personaggio, su questo medico perusino, questo è quello che, quindi è un test che senza conoscere l'altro conferma quello che l'altro ha detto. Ecco noi Petri poi lo conosciamo come agente della Polfer, evidentemente… Sì, questo è un altro, ecco, come mai lui abbia svolto questo, a che titolo, io questo non lo so, questo io ho cercato di capirlo, forse io non escludo che l'abbia fatto perché era una persona che aveva un grande senso civico, aveva anche, penso, passione per le investigazioni, e quindi può darsi che… però ecco, queste sono ipotesi. Un fatto è certo, quello che mi è stato riferito è così, è certo, da persone che non si conoscevano. Poi purtroppo questo è uno degli aspetti che non ho avuto il tempo di approfondire, ma certo, lui era morto ormai, purtroppo se non fosse morto sarebbe stato un personaggio che avrei chiamato, senza dubbio, ma purtroppo c'è stato questo attentato. Perché poi l'ipotesi, nel senso, se poniamo ovviamente l'ipotesi che ormai magari queste sue frequentazioni fiorentine, magari c'erano una serie di elementi sulla sua figura e qualcuno potrebbe aver pensato che ormai il cerchio si stava chiudendo, non lo so, è un'ipotesi ovviamente… Guardi, guardi, io mi ricordo di essere rimasto molto sorpreso, molto colpito da un articolo che un giornalista molto intelligente della Nazione, Mario Deggamba, fece, io lo ricordo perché era il mio compleanno, era il 13 aprile 1987 e c'era un articolo sulla Nazione, noi a Perugia leggiamo la Nazione molto… non solo la Nazione, ma all'epoca soprattutto era il giornale più diffuso e c'era questo articolo in cui si parlava di un messaggio, è come se potesse sembrare che il mostro nell'87 fosse ancora in vita, perché aveva spedito un non ben precisato messaggio alla dottoressa della Monica, c'è la foto della collega sulla Nazione in quest'articolo e nel corpo dell'articolo si parlava, il giornalista diceva, adesso non mi ricordo le parole precise, però il concetto è questo, gli inquirenti erano arrivati alla decisione di invitare i giovani a non avere più quelle cautele che avevano prima, di uscire liberamente perché ritenevano che ormai il problema mostro fosse superato, dopo, e questo io me lo ricordo questo riferimento, dopo il suicidio di un macellaio di Montecatini, ma questo in maniera più sfumata, e il suicidio di un medico nel lago Trasimeno, questo è quello che disse quest'articolo e io poi sentii questo del gamba, lui mi dice effettivamente di questo, mi riferivo al Narducci, del quale si parlava a Firenze, periodicamente ritornava all'attenzione questo personaggio, quindi di accertamenti e questo personaggio faceva parte di un elenco di sospettati che nell'87 proprio in quell'anno fu trasmesso ai magistrati Vigna e Canessa dai Carabinieri o dalla squadra mobile di Firenze, non mi ricordo, era un elenco di circa 200 nomi relativamente agli ultimi due duplici omicidi, non è spiegato su quali elementi si fondavano queste indicazioni e c'è al numero 180 mi pare Francesco Narducci ed è l'unico che è morto di queste 200 persone un mese dopo l'ultimo delitto, gli altri erano tutti, anzi mi pare che erano tutti in vita nell'87, poi ci sono emerse anche dei riferimenti a passaggi autostradali, di cose ne sono emerse? Non era un personaggio sconosciuto, era un personaggio che parlava Pacciani, Pacciani diceva indagate sul medico di Perugia perché va a vantaggio mio questa indagine, quindi non era un illustre sconosciuto tutt'altro, però poi le indagini si focalizzarono dapprima sulla pista Sard, poi su Pacciani, poi sui compagni di Merende e poi in seguito alle dichiarazioni di Lotti che c'era un dottore che pagava per avere questi reperti e è cominciato il livello terra delle indagini nel quale si è inserita l'indagine perugina perché noi ci siamo inseriti in questo livello, ci siamo trovati, ce lo siamo trovati fatto, ci hanno chiesto il collegamento e noi siamo entrati lì, quello che è successo prima delle indagini lo so per sentito dire, ma io sono arrivato nel 2001. Ecco, nell'indagine di Perugia tra le varie personalità che poi andranno a processo, ovviamente e poi su questo dopo la sua risposta voglio coinvolgere Paolo, finisce, e questo è l'elemento che forse è balzato più all'occhio proprio un giornalista, anzi il giornalista per Antonio Masi nella storia del mostro di Firenze, cioè Mario Spezzi che tra l'altro come sapete è recentemente scomparso. Ecco, su questo ovviamente anche a livello così giornalistico si sono sollevate molte proteste, il giornalista arrestato solo perché sostiene una pista, attacco la libertà di stampa e via dicendo. Poi la curiosità, quello che in qualche modo vorremmo conticare fuori, che ruolo aveva avuto secondo lei Spezzi? L'accusa di depistaggio, lui è sempre stato appunto un fautore della pista sarda oppure ha avuto qualche altro coinvolgimento e si è depistato per conto di chi? Non credo di depistarsi per se stesso. Io guardi, le dico subito, le dico quello che si è detto perché su questo punto io sono rimasto sconcertato, poi non è che noi abbiamo molte possibilità durante le indagini di chiarire questi aspetti, ma sono rimasto sconcertato dalla ricostruzione totalmente falsa che è stata fatta, non mi interessa da chi, la gente, il pubblico pensa che Spezzi è stato arrestato perché sosteneva delle idee, una tesi sugli omicidi di forma quella della Procura e poi pensa che l'arresto è stato cancellato dalla Cassazione con delle frasi, con dei giudizi di condanna, se è possibile ipotizzarli nei confronti delle indagini e poi che il procedimento sia concluso con la piena assoluzione di Spezzi. Niente di tutto questo. Noi, mi ricordo, il problema è questo, quando noi facciamo le indagini, c'era un'attività di intercettazione telefonica nei confronti del giornalista che ci faceva capire che il giornalista stava, non capivamo bene che cosa intendesse fare, ma stava preparando qualcosa, qualcosa di poco preoccupante, perché poi alla fine l'ipotesi che è stata formulata e quella che ha retto fino alla fine, poi le dico l'esito del procedimento, è un concorso, è una continuazione di una calumnia formale nei confronti del nipote di Francesco Vinci che all'epoca del primo delitto, se è il primo delitto, ma non è secondo me, comunque diciamo il primo delitto, quello del 68, lui è nato nel 59, quindi lei faccia i conti e questa una calumnia formale con tanto di denuncia alla squadra mobile di Firenze, praticamente lo si presenta come se fosse stato coinvolto nei delitti del mostro e come se conservasse in una villa in località Capraia, degli oggetti provenienti dai delitti. Poi ci sono i sopralluoghi che lo Spezzi fa in compagnia di uno stranissimo personaggio, un giallista americano che si sarebbe poi distinto per un comportamento che io poi ne potremmo, non ne parlo nemmeno perché non merita, ma insomma un comportamento incredibile e con un pregiudicato campano, oltre a un ispettore di polizia a riposo, avrebbero fatto sopralluoghi in questa villa con l'intenzione, noi abbiamo immaginato, appunto perché emergeva questo anche dalle dichiarazioni delle persone che poi sentimmo, che volevano lasciare degli oggetti che potevano essere riconducibili ai delitti in questa villa dopo aver accusato il nipote di Francesco Vinci di aver frequentato quella villa, di aver lasciato per sbaglio questi oggetti e quindi per farlo incastrare. Questo è quello che questo gruppo è accusato di aver tentato di fare, quindi calunnia formale è tentata calunnia reale, calunnia reale è quella di lasciare degli oggetti, di simulare le tracce di un reato a carico di una persona che si sa innocente. Lui viene arrestato, io impugno il provvedimento, viene arrestato e il provvedimento viene fatto in riesame, il GIP concede l'arresto, viene fatto poi, lui fa ricorso al Tribunale del riesame, che annulla il provvedimento, mi pare, però questo non me lo ricordo, adesso mi ricordo quello che è successo dopo, annulla il provvedimento, io impugno in Cassazione e la Cassazione dichiara è inammissibile il ricorso perché fondato su motivi di merito. Il GUP in sede di udienza preliminare, un'udienza preliminare che dura un paio d'anni quasi, un anno e mezzo, quindi una durata spropositata, lo proscioglie sotto il profilo del dolo, sotto il profilo dell'incertezza e del dolo, quindi la calunnia c'è, non siamo del tutto sicuri che ci fosse la mala fede, quindi l'opro scioglie. Io aspetto la motivazione che dura, che tarda di un altro anno e mezzo. Impugno in dieci giorni perché io dovevo fare tanti 15 anni, l'unico che assoluto è la calunnia, fa nulla, facendo il profilo dell'associazione del delinquere, annulla la sentenza emetta dal GUP anche nei confronti di specchi, dicendo che il gruppo non aveva tenuto conto di una intercettazione telefonica. Dopodiché la Cassazione ha annullato col rinvio, ha rimandato il fascicolo a Perugia, ma purtroppo il reato era prescritto. Quindi tutto questo discorso che è stato fatto da Spezzi, da Preston, in realtà il reato è prescritto, è finito con prescrizione davanti al GUP Gian Gamboni, dopo che la Cassazione aveva detto che non aveva tenuto conto al GUP di questa intercettazione che è una telefonata fra lo Spezzi e il giornalista Porqueddu, che secondo la Cassazione aveva un rilievo di cui non è stato tenuto conto. Così è finito, non con una soluzione. Quindi lei si rende conto, io tante volte, accusare una persona sapendola innocente, cercare di simulare a suo carico le tracce che lo inchioderebbero, sapendola innocente. Io penso che mi sembra un reato di una gravità che si vede contestabile. Questo è quello che noi abbiamo fatto. Purtroppo l'immagine, la stampa non ha informato, come è successo in altre occasioni. L'opinione pubblica non ha saputo niente di questa vicenda. Questa è la realtà. Sfido chiunque a contestarla. Allora, sentiamo Paolo, non so se su questo punto o su altri che ha toccato il Dottor Mignini. Vediamo, adesso ci metto un attimo ma arriva. Sì, sì. Allora, vediamo se... Eccoci. Allora, Fabio, non so se quello che so, che ho detto, che ho scritto, magari può mettere in imbarazzo Dottor Mignini, nel senso che il mio percorso di ricerca è totalmente diverso dal suo. Il suo è un percorso giudiziario che quindi segue delle tappe molto precise e deve essere anche molto rigoroso. La mia è un'indagine più giornalistica, no? Quindi, io della colpevolezza di Spezzi, però, posso dire che mi sono convinto, specialmente quando non solo ho riletto tutti gli articoli suoi in successione, ho riletto alcune sue dichiarazioni, alcune sue cose, ma soprattutto partendo da quella che per me è stato il dato più importante che è la colpevolezza del pubblico ministero che faceva le indagini, cioè Vigna. Quando mi sono convinto di questo e non me ne sono convinto leggendo qualche articolo o leggendo i libri di Giuttari, che secondo me in modo molto chiaro parlano della vicenda, anche perché i libri di Giuttari contengono tutti i riferimenti precisi a indagini giudiziali che non sono neanche state mai divulgate in alcuni casi, o perlomeno sono state divulgate solo in parte. Chi conosce certi retroscena sa che lui non ha messo nulla a caso nei suoi romanzi, quindi non da quello io sono partito, intendiamoci, sono partito da una serie di altre cose, all'inizio da una serie di elementi come ad esempio il fatto che uno dei delitti, quello di Vicchia, avvenne a pochi centinaia di metri dalla casa di Vigna stesso. Poi la morte strana della moglie di Vigna, Carolina Ricci, per mezzo di una persona che poi non fu mai individuata, la moglie di Calamandrei, Mariella Ciulli, che peraltro poi era amica della Ricci, che testimoniò Vigna sparava, mio marito tagliava, tutta una serie di elementi che, vada bene Fabio, non erano ancora per me risolutivi, perché tutti questi elementi possono anche portare verso una falsa pista, quindi io avevo questi elementi ma non ero così sicuro. Poi una serie di riscontri fatti da persone che lavoravano in polizia a Firenze, di cui mi fido assolutamente, e che mi hanno portato una serie di ulteriori riscontri. Peraltro la figura di Vigna era molto chiacchierata all'interno di Firenze, chiamavano l'innominabile all'epoca dell'indagine, perché? Perché qualcuno sapeva, qualcuno aveva anche capito, nessuno poteva poi parlare e quindi anche giornalisti che si erano occupati della vicenda e che poi avevano smesso di occuparsi quando hanno capito che era troppo pure per loro. La mia posizione però è assolutamente diversa, io non parlo per altri giudiziari, parlo per una serie di elementi miei che miravano solo a informare le persone dal punto di vista giornalistico, sia pure tramite un blog come quello mio. Questa è la mia posizione molto particolare, che ovviamente non può coincidere con quella del Dottor Vigna. Io volevo dire, volevo precisare, il discorso del Dottor Vigna non lo faccio perché io non l'ho conosciuto, ho conosciuto appena, quindi l'ho conosciuto attraverso la conoscenza che ho avuto con Paolo Canessa e anche con Giuttari, per Giuttari ha una grande stima del Dottor Vigna, che è lui che era voluto a Firenze, quindi io di lui non posso dire niente perché proprio non lo conosco, non l'ho conosciuto, mi dispiace ma questa è la realtà. Quello che volevo dire è che non mi permetto di dire nulla di quello che l'Avvocato Franceschetti avrà le sue ragioni, io non ho un contesto, però non posso dire nulla per quanto mi riguarda, perché è una persona che non conosco. Posso dire di Spezzi che lui è stato, il reato è stato dichiarato prescritto, quindi non c'è una soluzione piena, fra l'altro dopo che la Cassazione ha sottolineato queste carenze del proscioglimento di questi 22 di cui si è tanto parlato e che sembrava che tutta l'indagine fosse costruita, me la fossi inventata io, invece non era così. Vi siete chiesti il fatto di lasciare elementi in quella abitazione, ovviamente lo scopo era indirizzare le indagini su quella persona e quindi sviarle da altre strade, quindi vi siete chiesti perché lo facevano? Non abbiamo avuto, sarebbe dovuto emergere in dibattimento, ma il dibattimento non c'è stato perché il GUP dapprima ha emesso la sentenza di proscioglimento con un profilo dubitativo e solamente sul dolo, se ben ricordo, e poi nel frattempo con questi ritardi nella udienza predibilitare e poi nel deposito della motivazione i reati, ne faremo tutti prescritti, sono arrivati, questo ultimo, quello di Spezzi, è arrivato prescritto. Spezzi non aveva solo il discorso della calunnia, questo reato ai danni di questo ulteriore membro del clan dei sardi, lui aveva anche l'ipotesi di omicidio per il quale ho chiesto l'archiviazione, con in relazione all'articolo 125, le disposizioni d'attuazione, anche qui con formula di incertezza e quindi ho chiesto l'archiviazione nei suoi confronti, quindi lui è stato archiviato per quanto riguarda il procedimento relativo all'omicidio che gli era debitato anche al Calamandrei, è stato archiviato, ho chiesto e ho ottenuto l'archiviazione. L'omicidio, l'ipotesi era l'omicidio di Narducci? L'omicidio di Narducci, sì, perché c'era una, cioè io non è che quando iscrivo, quando uno iscrive e uno pensa, bisogna mettersi nella prospettiva del magistrato, il magistrato non anticipa nulla, gli arriva una notizia, una informativa, qui c'era un'informativa del Gides di Giuttari che imponeva l'iscrizione e quindi imponeva delle garanzie a tutela dell'indagato, erano iscritti sia lui che altre persone, c'erano delle persone che erano state indicate da un personaggio che è stato sentito, ha riempito un memoriale e ho chiesto l'archiviazione per quanto riguarda l'omicidio. Per quanto riguarda invece i reati relativi al doppio cadavere, per esempio i reati commessi all'epoca, sono stati di grati prescritti, cioè i reati ci sono, ma sono prescritti, perché sono stati commessi nell'85 e ho avuto la possibilità di intervenire su questo procedimento dal 2001 e quindi lei capisce che purtroppo poi però c'erano anche dei reati commessi successivamente per occultare, sempre con finalità di depistaggio e questi reati si sono prescritti per le lungaggini che sono state, che sono sono dedicati a questa vicenda, in caso di domani, c'è una certa considenza perché non si pensa in un luogo a procedere la cui motivazione viene depositata dopo, io non mi ricordo se è un anno e mezzo circa, è un anno e mezzo circa, è qualcosa di domani. Beh, qualche dubbio lo fa venire insomma. Beh, insomma, per carità io non so, però insomma che una motivazione per la quale il gruppo si è riservato 90 giorni e già sono tanti per una sentenza di un luogo a procedere intervenga dopo, io mi pare, più di un anno è sicuro, un anno e mezzo circa, è insomma è un po', insomma, lascia, lascia, veramente è grave, è un fatto grave questo. Allora, Paolo vuole aggiungere una cosa? Volevo dire che per quanto riguarda Spezzi, le conclusioni che io poi ho tratto sulla sua persona erano, sono troppo complicate adesso per riportarle qui perché bisognerebbe analizzare tutta una serie di articoli, di dichiarazioni che fece a suo tempo, tutta una serie di cose, ma la cosa che a me colpì, cioè è come se fosse che con Spezzi, mi sono reso conto dopo anni, che avevo come una specie di conto aperto, nel senso che io avevo circa 20 anni forse quando uscì una notizia sulla Nazione che mi fece, ripeto, avevo 20 anni, facevo l'università, ma mi fece arrabbiare per giorni in un modo che non mi aspettavo, cioè uscì la notizia, errore del mostro, se il mostro è passato dai caselli, i caselli erano controllati e quindi sarà individuato. Dopo pochi giorni poi troveremo Narducci che viene ritrovato nel lago Trasimento. Ora, questa notizia che anni dopo… Scusatemi, ogni tanto mi passa a viva voce, se deve essere un guasto nel cellulare, posso togliere o mettere in viva voce, non lo so. Ci sono dei momenti in cui la voce diventa più lontana e altri più vicini. Eh, infatti, è un po' difettoso, comunque, vabbè. Vabbè, spero che si è capito tutto. Vai pure Paolo. Dicevo, quindi uscì questo articolo sulla Nazione, che mi colpì tantissimo perché diceva errore del mostro, se era passato dal casello autostradale i caselli erano controllati e quindi verrà individuato. Questa cosa a me mi fece, non so come dire, arrabbiare, mi prese una rabbia che disse, ma se esiste un magistrato che legge questa cosa, ma deve indagare questo tizio che ha dato questa notizia, perché significa avvertire il mostro sostanzialmente. E io già all'epoca dissi, ma questo non può essere una cosa fatta in buona fede solo per dare una notizia giornalistica, questa è fatta per coprire chi era il mostro e poi anni dopo capirò che non a caso era il messaggio che veniva dato all'organizzazione di procedere per, diciamo così, estendere quello che si chiama in gergo tecnico massonico il cordone sanitario, quindi provvedere a risolvere la questione di Narducci che era stato individuato con questo sistema. Questo lo capirò dopo però, ma io già a vent'anni mi prese una rabbia che dissi, io non so come possono lasciarsi impunite queste cose, questi comportamenti, quindi io poi non mi stupì anni dopo quando il dottor Mignini inquisi Spezzi e partì la vicenda Spezzi, dico, oh finalmente qualcuno che procede contro questo soggetto così come si deve procedere. Poi dopo ho fatto le mie ulteriori ricerche, indagini, eccetera, e quindi sono arrivato poi alla conclusione che fosse proprio lui il mostro, come diceva anche Gabriella Catrizzi, uno dei mostri, non fosse il mostro. Poi adesso ci siamo ritrovati, come è noto, a processo a Firenze, un processo farsa perché ho capito subito che, ti ricordi Fabio lo dissi in tempi non sospetti che Spezzi non sarebbe arrivato vivo alla sentenza, infatti non c'è arrivato vivo, anche se era malato e va bene, però conosco diciamo certe realtà processuali, chiamiamole così, so come funzionano certe cose, quindi ho capito subito che questo processo non era finalizzato a arrestarmi o condannarmi, era finalizzato ad altro che non ho ancora ben capito poi tra l'altro, però è strumentale a qualcos'altro anche perché dal punto di vista tecnico arriverà senz'altro alla prescrizione, poi ora è morto, il processo prosegue, tra l'altro hanno sbagliato clamorosamente la competenza mandandolo a Firenze e quindi io l'ho fatto trasferire a Viterbo perché la competenza era clamorosamente sbagliata e difficilmente non lo faccio si fa. Questo è un procedimento relativo a un'eclamazione. Sì, per un'intervista che io feci a lui in un giornale, intervistai sia Spezzi a cui chiesi c'è un avvocato che l'accusa di comunque essere tra i mostri e lui mi disse, gli chiesi come mai non l'aveva denunciato per diffamazione e lui nell'intervista disse ho già avuto a che fare con la giustizia, non voglio più avere niente a che fare con questo mondo. tempo però, un anno dopo, non so quanto tempo passò, pochi giorni dopo, invece mi manda un'e-mail e mi chiedeva di lui e poi tramite quell'e-mail lui praticamente, siccome l'articolo mai era passato, cioè l'articolo che lui aveva scritto poi, perché si riferiva all'articolo che Paolo aveva scritto sul suo blog anni fa, anni prima, lui con l'e-mail probabilmente ha, come dire, ha fatto, era la prova che lui l'ha saputo in quel momento, quindi ha rimesso in piedi… Aspetta Fabio, spiegala tecnicamente. Spezzi non mi aveva mai querelato come non mi aveva mai querelato neanche vigna per le cose che avevo scritto, se non che però erano passati poi i termini a un certo punto sia per la querela che per altre azioni, con l'e-mail di Fabio sono stati rimessi in termini, Spezzi è stato rimesso in termini, perché praticamente ha potuto dire che la conoscenza della diffamazione ce l'ha avuta dal giorno in cui Fabio gliel'aveva detto e non dal giorno in cui io l'avevo pubblicata, quindi… Sì, aspetta, aspetta, vai, vai. Ok, quindi ecco, vi sono beccato che sta querela per diffamazione davanti al tribunale di Firenze, però la competenza era sbagliata, perché Firenze sarebbe stata competente se fosse stato un giudizio civile, penalmente è competente il tribunale dell'imputato, quindi sarebbe stato Viterbo dove io ho la residenza e infatti l'ho fatto spostare a Viterbo, quindi abbiamo perso due anni, due anni e mezzo, adesso non mi ricordo, insomma, già in questa prima fase, senza concludere nulla, adesso siamo a Viterbo e tempo qualche mese e va in prescrizione, comunque nel frattempo Spezzi è morto, quindi già questo ovviamente rende il processo meno interessante e meno vivo, perché io a quel punto ho avuto dal punto di vista processuale la scelta, sì, vabbè, una delle scelte era anche farmi condannare perché non volevo neanche avere un processo e tutte le beghe che ne conseguono, stanno sapendo che poi tanto vengono sempre manipolati, questo tipo di processo non segue mai la pista normale, poi invece parlando con il mio avvocato mi ha detto no, il patteggiamento non te lo chiedo, altrimenti non ti difendo perché voglio andare fino in fondo e allora vabbè, abbiamo detto andiamo fino in fondo, porteremo gli atti processuali che riguardano Spezzi e cercheremo di dimostrare che erano fondate le cose che dicevo, insomma portando poi una serie di argomentazioni abbastanza robuste e vabbè, però per adesso è tutto fermo perché stiamo aspettando il trasferimento a Viterbo, quando mai arriverà e comunque si arriva la prescrizione, quindi di fatto non si riaprirà la vicenda del mostro di Firenze, mentre c'è stato un periodo che abbiamo pensato, vabbè, vuol dire che si riapre la vicenda del mostro perché a quel punto si ridiscuterà in sede processuale se effettivamente c'erano gli elementi per dire che Spezzi era uno dei mostri oppure no, però credo che questa cosa non succederà mai perché credo che nessuno voglia riaprirla realmente questa vicenda. Allora, volevo toccare altri due o tre punti se il dottore ovviamente ha un po' di pazienza ancora, uno era questo che riguarda sempre Perugia, cioè i famosi proiettili del fascicolo, perché questo è un punto tra l'inquietante, però è anche importante questo punto, perché a Perugia c'era il processo a Mele, giusto? Sì, 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 che era il processo in sede di un uvio, dalla Cassazione. Ecco, e siccome Mele era legato al primo delitto, non sappiamo se è legato alla serie, però diciamo cronologicamente quello del 68 e siccome poi ci sarà l'assunto che poi non verrà mai messo in discussione, che a sparare nei delitti del mostro sarebbe stata la stessa pistola del delitto del 68, il reperto di quei proiettili è ovviamente importante e siccome il processo era a Perugia, stranamente questo reperto che dovrebbe essere custodito insomma in modo come prevede la legge, insomma come prevedono anche le norme di garanzia e di cautela, invece questi proiettili erano spillati a un fascicolo. Sì, è strano? Questo è quello che io ho letto, perché poi su come si è arrivati, già questo è un passo, io rimango, ogni volta che mi capita di tornare a questo punto rimango atturito di come a questo punto la cancelleria penale della corte dell'azione di Perugia, perché teoricamente è avvenuto lì, questo come chiamato errore, non errore, non lo so, è qualcosa di una carità, i proiettili ai bossoli di un delitto, di un omicidio vengono lasciati spillati al fascicolo e non confiscati come prevedeva anche la legge prima del nuovo codice di prevedeva penale, c'è anche il vecchio codicolo. Io, è una cosa che mi lascia perdere, cioè io ho dei dubbi, ma non perché sappia qualcosa, sono una cosa che mi pensi più di questi delitti, ma un fatto come questo mi sembra un fatto così, cioè io, è stranissimo e soprattutto poi come si arriva, cioè il maresciallo che si ricorda di questo delitto pur non avendo il 68, pur non avendo le indagini, è un delitto che ha degli aspetti in comune con quelli successivi, sì, un omicidio che avviene nei confronti di una coppia in macchina, ma è un delitto che dice lo sia questo, è chiaro, il marito è anche l'amante della donna che era geloso di quest'altro amante, ne sono state dette tantissime, noi abbiamo un colpevole che è il marito della donna, che viene poi arrestato e quindi lui poi non può più essere coinvolto nei delitti successivi, perché è stato subito arrestato e come si arriva? Io leggo, perché lo leggo su internet, che c'è una richiesta, un trafiletto della nazione in cui il comando Carabinieri di Firenze si rivolge, chiede aiuto per le indagini nel 1982, questo siamo all'indomani del delitto di Montespertoli, chiede aiuto a una persona che, io l'ho visto questo trafiletto, l'interpretazione che può dare questa, non so che cosa c'è dietro, le parole sono in precedenza, queste aiutate in precedenza, forse una fonte, e poi si viene a sapere, mi pare che lo dice Spezzi, che questo che arriva un incoglio di giornale della nazione riguardante il delitto del 68 con una scritta, se volete bene, se volete il progetto, il termine delle parole testuali non me le ricordo, andate a cercare, se volete sapere la scritta, andate a cercare il fascicolo a Perugia, vanno a Perugia e trovano i mostoli e i proietti distillati, che è qualcosa di incredibile, di cui a Perugia non c'è stata, nessuno si ricorda, non c'è niente di questo, nessuno si ricorda di questa anomalia incredibile che avrebbe potuto comportare, avrebbe potuto comportare un procedimento disciplinare se non peggio nei confronti del personale della cancelleria, quindi chi avrebbe scritto questa cosa sul giornale è uno che sapeva tutto e sapeva che avrebbero trovato questo, questo mi lascia, non lo so, è una cosa che io, se l'unicità dell'arma si fonda su questo, io veramente non lo so, non so che pensare, anche perché l'arma non è stata trovata e da un esperto di armi so che quando un'arma non è stata trovata, dell'arma si può dire e non dire, non è che non si può dire niente di certo, questo è il problema, c'è questo impatto e chi mi assicura che ci sia trattato, la butto là, di una cosa organizzata, chi me l'assicura? C'è di un altro depistaggio, nel senso far trovare lì quei proiettili per dire che ha spagato la stessa pista? Quindi dove sono finiti i proiettili del 68? Sono quelli, può darsi, può darsi che sono quelli, c'è stata una dimenticanza e se non fossero quelli e se ci fosse stato qualcosa di più grave, io ne penso tutte perché sono magistrato, io non lo so, io non so com'è andata, però mi stupisce che nessuno dica, ma è sicuro che è andata così, questo. Anche perché, per esempio Giuttari, lui addirittura ricorda nel suo libro, nel libro fatto tra l'altro molto bene, lui dice che c'erano meno bossoli dei proiettili rinvenuti, come se la pistola che non lascia i bossoli è un revolver, perché i bossoli sono espulsi dalla semiautomatica, ma e quindi poi il proiettili viene sparato, il bossolo viene espulso dalla, come si chiama, quella pannella laterale dell'arma che quando si spara, si apre, lascia uscire il proiettili, questo non mi ricordo in termini tecnico, ma se si trovano meno bossoli dei proiettili sparati, può darsi che non sono stati trovati, può darsi anche che c'era un'altra arma che tratteneva i bossoli e quindi un revolver. E questa semiautomatica, questa famosa beretta calibro 22, era una semiautomatica, non un revolver. Cosa mi spiego? Cioè, io ovviamente queste sono cose che non ho, diciamo, l'ho seguita su internet, e io ci ho radiorato su, mi sembra una cosa che veramente lascia perplessi, io come minimo sono perplessi, non lo so, sono abituato a distidare di certe spiegazioni così, invece tutti, l'unica arma, l'unica arma, quelli sono i bossoli e quelli sono i proiettili, sono uguali agli altri, quindi sono stessa arma. Insomma, un pochino di senso critico e di prudenza sarebbe forse d'obbligo, ma forse sono io che ormai a fare quest'indagine sono diventato sospettoso, questo lo ammetto, non credo alle spiegazioni troppo, mi pongo sempre dei problemi, degli interrogativi. Ce ne fossero di più così. Purtroppo invece, a volte leggiamo anche, magari sono state scritte male a livello di stampa, ma ci sono dei casi, che ne so, di morti, che dopo due ore il magistrato dice che è stato un suicidio, nel senso, così, e non si indaga, quando ha detto il suicidio finisce lì, no? Ovviamente. Invece, secondo me, insomma, in certi casi è bene essere sospettosi, soprattutto chi fa il magistrato. Eh, certo. Volevo, tornando per un attimo a Narducci, la sua appartenenza a qualche loggia massonica è venuta fuori nelle indagini e potrebbe avere una relazione con questa storia? È venuta fuori, sì, da più fonti. C'è una persona che ha raccontato una sua confidenza a questa persona, c'è un appartenente al Grande Oriente di Perugia che l'ha visto con i paramenti nella sede del Grande Oriente, insomma, il suocero del fratello, erano ovviamente dei Grande Oriente, c'era tutto l'ambiente, questo senza arrivare a quelle conclusioni, perché la responsabilità penale è personale, io lo dico sempre, quindi... Però, ecco, il tipo di discorso, l'ambiente è venuta fuori, l'appartenenza anche del morto è venuta fuori, e anche di altri soggetti un po' coinvolti, l'attività di intercettazione. A un certo punto, l'abbiamo accennato, il personaggio di Gabriella Carlizzi, per alcuni una pazza, per altri un personaggio coraggioso, abbiamo sentito di tutti i colori. Noi tre anni fa abbiamo intervistato il marito Carmelo, non so se ha avuto modo di conoscerlo, che aveva, cioè raccontava quello che Gabriella pensava del delitto Meredith, cioè letto con una chiave un po', come dire, non so se estrema o fantascienza, non lo so. Però in sostanza, da quello che ci riferiva Carmelo Carlizzi, finché era in vita, Gabriella riteneva che il delitto Meredith sia stato un modo per, in qualche modo, far spegnere l'altro procedimento, quello, appunto, cioè l'indagine su Narducci, addirittura ipotizzando che è stato commesso nel momento in cui lei era di turno, perché da quello poi ovviamente è nato fuori, insomma, ovviamente questo caso internazionale, coinvolta un'inglese, un'americana, tutte le polemiche, tutte le cose che sono state dette, e ovviamente si è tentato di screditare anche la sua immagine. E' una teoria ardita? Ci ha mai pensato? No, io diciamo che uno che sia stato ordito questo piano mi sembra veramente, cioè non non ci credo, che dei soggetti, come i soliti, soprattutto Preston, questo giallista, abbiano subito cavaliscato questa vicenda di questa giovane americana accusata di omicidio, non perché americana ovviamente, ma perché raggiunta da elementi che poi hanno portato a condanne nel merito e anche ad una pronuncia della Cassazione della prima sezione, che insomma critica duramente la assoluzione intervenuta a Perugia, che loro poi, dopo l'inizio della vicenda abbiano cavalcato, sa, tutto questo atteggiamento emotivo dell'opinione pubblica americana che io ho visto, insomma perde il controllo quando un concittadino viene sottoposto ad una giurisdizione straniera, questa è una cosa che loro, è un'altra cosa che mi stupisce, ma è così, prendo atto, i popoli hanno questa tendenza, quando un cittadino statunitense viene incriminato e viene processato, viene arrestato poi ancora di più all'estero, per loro pensano subito a una persecuzione, questo deriva da fattori storici, non lo so, però è un fatto e Preston che conosceva benissimo i suoi connazionali, ha sfruttato questa debolezza, questa emotività per cercare di vendicarsi, lui non ha subito niente, perché lui ha reso dichiarazioni che mi sono apparse sul momento reticenti, ho sospeso l'audizione, l'ho invitato a nominare il difensore, poi ho fatto le indagini, ho ritenuto che si fosse fidato troppo di Spezzi e ho chiesto l'archiviazione, quindi non ha avuto, Spezzi è stato arrestato, Spezzi è un po' diversa la situazione, anche se non aveva motivo per comportarsi come si è comportato, nella maniera più assoluta, io ho fatto il mio dovere, ma Preston dopo non ha subito niente, però si è sentito in discussione, ha reagito come purtroppo è frequente questo atteggiamento, ogni ambiente ha i suoi difetti, i suoi pregi e i suoi difetti, se devo trovare un difetto in un certo ambiente statunitense vedo questo, c'è questa suscettibilità è subito, si pensa subito alla persecuzione che nella maniera più assoluta non c'è mai stata, è stato un processo assolutamente tranquillo, ovviamente c'era una pressione mediatica che era qualcosa di… non aggiungo altro su questa vicenda, però per me pensare che sia stato organizzato mi sembra una cosa fuori dalla… non ci credo, che poi abbiano cavalcato la tigre di questa emotività che si è creata loro e altri e questo sì, questo senza dubbio, questo mi sembra anche un fatto abbastanza… considerando queste caratteristiche psicologiche è un fatto abbastanza prevedibile, prevedibilissimo, quindi credo, non credo a quello che… sì, l'ho letto, io conosco, conoscevo, conosco, conoscevo la signora Carlizzi, devo dire che è stata giudicata in tanti modi, io l'ho conosciuta e l'ho anche arrestata due volte, ce l'ha raccontato il maguito, sì. Ho fatto arrestare due volte, mi sono stato… mi hanno rimproverato quest'ambiente perché c'era… ho avuto l'impressione che Spezzi la odiasse in una maniera… non so perché… e quindi cercasse di delegittimare lei e di delegittimare me dicendo che io la seguivo e che non era assolutamente vero perché l'ho fatto arrestare in due occasioni e non ero assolutamente d'accordo con la sua impostazione, fermo restando che era una persona con una certa onestà di fondo e che cercava di essere utile, di essere utile alla giustizia. Ecco questo, io posso dire questo, magari sbagliando perché poi bisogna lasciarla fare a quelli che lo fanno per mestiere questo lavoro. Lei si sentiva un po' una persona informata sui fatti in servizio permanente effettivo, ma questo… Forse su troppi fatti, forse… Come? Forse su troppi fatti, nel senso che… Sì, su troppi fatti, poi soprattutto traeva delle conclusioni che erano molto… non si giustificavano, c'era l'errore logico del non sequitur, quando uno trae una conclusione non giustificata dalle prevesse. Ecco, uno fa delle prevesse e poi la conclusione è che però sono errori che si trovano anche nelle sentenze, non è che è lei che sbagliava e altri no. Lei però commetteva spesso questo errore, però ecco, io se devo dire era una persona a suo modo simpatica, però bisognava essere critici rispetto a quello che diceva, rispettarla per chiarità, perché meritava rispetto, io non lo rispetto tutti, però ecco, c'erano delle cose su cui esagerava secondo me. C'era anche una certa… Per esempio lei, l'impostazione… Narducci era la vittima del mostro e che era un po' una sua illazione che non aveva riscontro nelle risultanze, proprio. Ecco, questo per esempio è un altro punto dove non la seguivo, insomma. Ecco, probabilmente non la seguivo perché c'è un ascoltatore che ci ricorda che nel libro che lei aveva scritto, Meredith Kercher, un delitto imperfetto, nella seconda edizione, scriveva di aver ricevuto dei files audio, forse di un agente segreto, in cui c'erano dei dialoghi di personaggi già coinvolti nel caso Narducci, mostro di Firenze, che architettano l'omicidio Meredith facendo credere ai ragazzi diventati famosi, Nox, sollecite, che quella sera avrebbero dovuto fare le prove di una rescita teatrale raffigurante un rituale esoterico, i ragazzi sarebbero stati drogati in modo che non fossero lucidi e poi il vero killer, che interpretava un personaggio incappucciato, avrebbe ucciso Meredith per poi fuggire. Non ci sono riscontri, immagino, in una roba del genere. No, no, no. No, lì, il delitto, io l'ho sempre detto, ma hanno attribuito sempre quest'ambiente statunitense, che aveva perso completamente quest'ambiente di sostenitori, il lume della ragione, ma hanno addirittura attribuito a me delle espressioni che erano state utilizzate dall'avvocato di Lumumba, che ha usato delle espressioni discutibilissime. Mi pare che un giorno usò la parola strega per riferirsi ad Amanda e io poi gli dissi non usare questi termini, scusa, siamo amici, lo conosco bene, dico mi sembra, anche perché poi questa gente me lo attribuisce a me e infatti è successo, io veramente a un certo punto non sapevo come, lasciamo perdere, a un certo punto dico lasciamoli perdere, ma lì c'era un discorso di, c'era una forte ostilità che era insorta tra le due ragazze, tra l'americana e la britannica. Noi pensiamo che essendo anglosassoni sono simili, invece sono molto diversi, anche come c'è una differenza di educazione, di carattere, di comportamento, non si sopportava, la inglese non sopportava Amanda e Amanda si sentiva umiliata da questo atteggiamento, quindi un carattere molto forte Amanda e a un certo punto lei non sopportava più e anche Meredith l'accusava di, ha torto a ragione questo, di rubarle i soldi del canone di locazione, c'era anche questo e quindi è un delitto, non è un delitto premeditato, un delitto si è originato sul momento, c'era una giornata, una fine settimana in cui erano sole, lei era spalleggiata dai due, secondo me è questo secondo la ricostruzione che abbiamo fatto e quindi è successo, poi è venuto fuori tutta la rabbia di Amanda nei suoi confronti, non c'è discorso esoterico, non c'è, almeno il magistrato deve essere laico, deve essere aperto a tutto quello che può venire fuori dal corpo sociale, perché purtroppo non è che uno si interpreta in un certo modo un delitto vuol dire che condivide quel modo di ragionare, assolutamente, ma è una spiegazione estremamente discutibile di un fatto e quindi bisogna essere, il magistrato deve essere aperto a quello che risulta dagli atti, non può avere idee preconcette, questo lo dico sempre, ma appunto qui non c'era nessun appiglio, anche perché la festa di Halloween era il giorno prima, non era la notte del delitto, tanto per precisare meglio, si sono dette tante cose, io capisco per carità, può essere sì, uno ne può pensare tutte, però poi a noi non ci risultava niente di questo, questo lo posso dire nella maniera più assoluta. Le ultime due cose, una riguarda sempre perché abbiamo parlato di Foligno, l'intercettazione che viene da Foligno, è venuto fuori, abbiamo letto, visto che lei è stato sentito anche nel Consiglio Regione Toscano sulla vicenda del Forteto, ci sono anche lì delle telefonate che in modo un po' strano c'è una triangolazione Forteto-Foligno e poi si dice anche che Pacciani frequentava la zona di Foligno. Sì, questi sono discorsi, non abbiamo avuto però il discorso del Forteto è venuto fuori nelle indagini, è vero, è venuto fuori all'inizio, non mi ricordo però con precisione, è venuto fuori nel 2006, 2005-2006 soprattutto, con delle accuse di un soggetto molto pesanti, però poi ho archiviato, l'archiviazione per l'omicidio deriva dal fatto che non ho prestato fede perché non ho avuto conferme a queste accuse fatte da questo soggetto, però questo discorso del Forteto è venuto fuori, è venuto fuori durante le indagini, questo effettivamente è vero, però io ho seguito un certo filone, un certo percorso, non ho avuto in quel momento in cui svolgevo le indagini l'occasione di occuparmi del Forteto, avevo tantissime cose da fare onestamente, non potevo fare tutto, questo del Forteto è rimasto un po' nell'ombra purtroppo. e non potevo sentire, è un po' come le telefonate, anche le telefonate, siamo arrivati alla conclusione, una con l'anna però ecco, io ho sentito di meno, di meno che ho, ho sentito con minore impegno che ho immesso per questa vicenda molto più complessa, molto più della vicenda fiorentina, questo è innegabile, questo probabilmente è un elemento, è una vicenda che merita attenzione, secondo me però non sono emersi con sicurezza, riferimenti alla vicenda del mostro, anche se uno dei capi, uno dei dirigenti fu considerato per un certo periodo sospettato, ma poi non ha avuto più riscontri questo sospetto, questo posso dire. Secondo lei, abbiamo detto, Pacciani che veniva, forse frequentava la zona di Foligno, a Foligno, dopo gli anni successivi agli eventi legati al mostro, entra in azione un altro mostro, il mostro di Foligno, Chiatti sappiamo, condannato per l'orrendo micidio di quei due poveri bambini, poi anni dopo viene fuori la testimonianza di una ragazza, poi non si sa se ovviamente questa testimonianza sia attendibile o no, francamente non lo so, abbiamo visto anche in televisione, in cui lei racconta da bambina di aver assistito all'omicidio di uno di questi due bambini durante un rito. Quindi la domanda delle domande è se in qualche modo le due vicende per magari alcuni personaggi in comune, frequentazioni in comune, cioè l'ambiente di Foligno, Perugia, Firenze, possono esserci dei legami, visto che anche nel mostro di Firenze si ipotizza la pista esoterica. Guardi, io dei delitti di Foligno non mi sono occupato, ho letto sui giornali, quindi non posso dire, non abbiamo avuto niente di concreto. Ecco, questa ipotesi era sostenuta dalla signora Carlizzi. Mi ricordo che lei era molto, diciamo, anche una sostituità quasi di indagine, lei cercava elementi, però non abbiamo trovato elementi per collegare le due cose, insomma. Il discorso della bambina si riferisce a un altro procedimento, ma nemmeno che l'ho notato, io ne ho trattati altri simili su un, se ben ricordo, doveva trattarsi di questa bambina di un procedimento per una specie di setta satanica o qualcosa del genere. Se non sbaglio, questo però io non ho un ricordo preciso di questa. Mi pare però che non l'abbia trattato io questo, mi sembra. Ne ho trattati altri, ma questo mi sembra di no. E quindi non posso, non posso, non escludo niente perché nel corso anche l'attività, dall'apporto informativo della polizia, veniva fuori una certa frequenza, una certa diffusione di ambienti strani un po' di questo tipo nella zona di Foligno, ma da lì è la più materia per sociologi, per un'attività giudiziaria. Io nell'attività giudiziaria mi devo fondarmi sui fatti, i fatti, i fatti, quelli non tanto sui simboli che possono avere significati ambivalenti, non chiari, i fatti, la responsabilità personale fondata fu quella. L'ultima cosa che, siccome prima raccontava dei testimoni terrorizzati, perché c'è stato raccontato da molti che il mostro di Firenze era, noi non ci crediamo ovviamente, che fosse un killer solitario eccetera, ma se così fosse non si spiega come mai uno ci sia questo clima ci sia stato e mi pare che ancora oggi sia molto difficile parlare, mi raccontano anche i colleghi eccetera, di questa storia, almeno di parlare in un certo modo, quindi ci si chiede come mai ci sia ancora questo clima di questo tipo e soprattutto, essendo una storia piena, abbiamo visto, di depistaggi, di morti collaterali, non ne abbiamo parlato, ma muoiono testimoni, muoiono esattamente come nei più grandi misteri italiani dove si ipotizza il coinvolgimento anche di appagati dei viati dello Stato, quindi che risposta ci si può dare? A distanza di tutti questi anni permane questo clima e questa paura anche di parlarne da parte di alcune persone? Io le posso dire, guardi, le posso dire anche qui, questi sono fatti, la paura, il terrore che provavano, che li confessavano, per esempio l'ambiente dei pescatori del Trasimeno, quello è un ambiente dove diverse persone, ho capito e me l'hanno anche detto in certi casi, avevano paura di parlarne, si vedeva, non volevano parlare di questa storia, poi sono successi fatti di piuttosto strani, agiles, irruzioni, captazione del materiale di intercettazione con borchie che erano stati, capiva chi aveva ordinato queste borchie che prelevavano e veicolavano non si sa dove, il contenuto delle intercettazioni, di strani incidenti subiti da giuttari, quelli sono fatti, questi, questi, ora uno può interpretarli come gli pare, però, un... Caduta la linea, vediamo un po' se riusciamo a recuperarlo, anche se ormai eravamo arrivati alla conclusione, proprio su un punto poi... Eccoci, si è caduta la linea, eccoci qua. Sì, quindi un killer solitario che magari ha iniziato a uccidere quando aveva, non so, 25 anni, che ora, quanti anni, dal 74 siamo a... quanti sono? 40 anni sono passati, no? Quante... Sì, sì. Eh sì, più o meno. 42. 42. E che ora avrebbe, sarebbe una persona anziana, insomma, e che è in grado di esercitare questa influenza, insomma, mi lascia molto perplesso, anche perché i delitti, io ho provato a immaginarmi una singola persona che uccide l'uomo, intanto non ha bisogno di un palo, non ha bisogno di uno che sorveglia, è notte, non ha bisogno di nessuno che lo illumina, uccide la donna, la mutila senza bisogno di alcuna luce, non riesco a capire come... Cioè è un po' difficile immaginare un singolo che riesca a fare tutte queste cose e soprattutto poi un singolo che riesca a mantenere questa paura, perché effettivamente questo, io questo lo posso, questo è vero, questo è un fatto, io l'ho visto e quando è cominciato il livello superiore, l'indagine sul livello superiore, sono cominciati i problemi, sono cominciati i problemi di tutti i tipi e io ne ho vissuti, adesso non sto a soffermare perché un giorno poi forse lo dirò, ne parlerò diffusamente, ma sono attività che abbiamo svolto in collaborazione con altri uffici, quindi preferisco astenermi da valutazioni che poi non potrei essere preciso fino in fondo. Certo, qui è mancata purtroppo, è mancata qualcuno che dicesse questi uffici, queste varie posizioni vanno messe insieme, bisogna lavorare insieme, c'è qualcuno che avesse cercato di lavorare per l'unità, questo voglio dire, io posso dire col collega l'abbiamo fatto, non so se tutto l'ambiente aveva questa, io ho visto che molti cercavano di stare lontani da questa storia e questo è un altro elemento che mi fa pensare, il guardone che viene scoperto, che conosce tutti nell'81 Spalletti che ancora oggi non parla e poi abbiamo avuto anche racconti di telefonate minacciose subite da questi testimoni, quindi si pensi come è facile poi trarre delle conclusioni dicendo, ma secondo me in questa storia non c'è un solo soggetto, questo mi sembra di poterlo dire a conclusione del lavoro che ha svolto e quindi quello che lei dice in gran parte può essere vero. Ha temuto mai per la sua vita durante questa indagine? Ma diciamo sul momento non l'ho capito, non me ne sono, c'è stato, ci sono stati momenti in cui, come succede, ci sono state ipotesi di pericoli, ma insomma poi non, però ecco di problemi ne abbiamo passati parecchi. Tra l'altro a suffragio, sì. Questo lo posso dire, ecco, soprattutto il dottor Giuttari. ha subito tagli di gomme che avrebbero potuto portare a conseguenze molto pesanti, ha subito, ha avuto lettere anonime, lettere minacciose all'inizio, soprattutto è stato il momento dell'inizio delle indagini, questo mi sembra che lui ebbe una lettera piuttosto sgradevole, una lettera minacciosa anche di insulti all'inizio delle indagini, mi sembra, o forse più di una e una nel prosieguo, quindi insomma cose un po' e soprattutto poi questi testimoni, io mi ricordo uno che proprio era terrorizzato e me lo confessò, che le devo dire? Non lo so, io posso dire che questa è una storia che andrebbe approfondita, anche se oggi purtroppo si può fare soltanto della storia, ma andrebbe approfondita. Prima diceva Paolo che il dottor Giuttari forse in qualche romanzo, quello che non ha potuto fare diciamo, magari nell'indagine forse l'ha rivelato o l'ha fatto intendere in qualche romanzo, non so se lei li ha letti. Sì, io l'ho letto, ma sì c'è sicuramente della sua esperienza, ma mi sembra un po' trovare un riferimento specifico a una singola circostanza, un po' ho rivisto tanti personaggi, ho rivisto questo sì, ma trovare la spiegazione, io posso dire che ci sentiamo, si parla, lui ora in questo momento è in Germania, però siamo diventati amici da quell'esperienza, ci sentiamo e abbiamo più o meno le stesse idee, insomma, su questa storia, quindi ecco questo è quello che posso dire, è una storia che secondo me meriterebbe di essere approfondita, invece vedo che si cerca dopo un inizio in cui c'era una curiosità spasmodica, poi a un certo punto mentre nel momento in cui, mi ricordo, nel momento in cui venivano confermate, veniva confermato l'impianto accusatorio nostro, quello più clamoroso che è quello del doppio cadavere, là veramente siamo, io non ho mai visto una cosa del genere, nel momento in cui veniva confermato da 4 consulenze, c'è poco da discutere su questo, non c'era molto, non si è parlato più, si sente un atteggiamento di, non lo so come definirla, si preferisce non toccare questo argomento, questo argomento è un argomento da lasciare lontano e questa cosa mi incuriosisce, questo che lo posso dire, lo posso confessare. Tra l'altro, giusto così, a margine, a proposito dell'ipotesi che fosse un gruppo, mi pare che c'era quella relazione negli anni 80 che credo elaborava forse il professor Bruno, che lavorava per i servizi di informazione. Sì, 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 però non arrivava alla propria, mi direi, stranamente. Cioè di cose strane le sono successe. Questo è quello che posso dire, insomma, ho avuto al di là di situazioni di contratto, ma ho avuto con la gran parte dei colleghi di Firenze, non vedo più, non ci incontriamo più con Paolo Danessa, però insomma, il rapporto si può molto plurire, poi alla dipensione, persone squisite veramente. Ecco, questo è una cosa che posso ricordare, posso dire, il dottor Soresina, un'altra persona, questo lo posso dire, il dottor Crini, con cui ho lavorato, che poi ha fatto il procuratore generale nel processo di meredith di rinvio, il dottor Alessandro Crini, che è come questa nel concorso. Ecco, però mi ha lasciato questa vicenda, mi ha lasciato tanti interrogativi. Bene, io ringrazio molto il dottor Giuliano Minire per questa bella chiacchierata che rago fare, perché poi... Io poi, ecco, magari se mi manda la trascrizione... Assolutamente, no, ci sarà la registrazione, l'audio. Sì, 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 tanto poi lo mettiamo su YouTube... La ringrazio, ecco, poi se sono stato in qualche punto poco chiaro, non lo so, se c'è qualcosa, poi avrò modo di chiarirlo in seguito, non lo so, questo mi dica lei, mi pare d'avere, io ho cercato di spiegare un po' tutto, non è facile, perché poi può darsi che mi è sfuggito qualcosa dopo dieci anni, ho la memoria molto forte, però è una storia sembra... qui la realtà si è sbilizzata qui della fantasia, no? Eh sì, perché lo scambio, arriva che lo scambio del cadavro, ovviamente, quasi da film, insomma. Sì, sì, questo... Bene. Va bene. Grazie, grazie di essere stato con noi, non so se Paolo vuole aggiungere qualcosa, no? No, tanto sì. Paolo? No, no, volevo solo salutarlo, dirgli che sono contento dopo anni di esserci incontrati in questa sede, penso che la vicenda non sia chiusa qua, si riaprirà, se ne scriverà, sarà una vicenda che penso che in realtà conoscerà molti di calma come adesso e poi momenti in cui riprenderà e qualcuno, come quella di Jack lo Squartatore, anche perché l'organizzazione è simile, le modalità sono simili, non so se lei aveva mai notato che la scansione dei passaggi principali della vicenda di Jack lo Squartatore segue la vicenda del mostro di Firenze, no? Sì, sì. Sì, sì. Sì, è molto simile. La vicenda finisce con un medico trovato nel lago, nel caso di Perugia, nel fiume Tamigi, nel caso di Jack lo Squartatore, poi anche gli indiziati furono gli stessi, perché furono indiziati diversi personaggi. Poi credo sia stato scoperto l'assassino, mi pare, mi pare ultimamente, doveva essere un turista americano. Questo io ho visto, una trasmissione non so che vedo, però è una vicenda che ricorda molto questa storia. Sì, alcune cose, poi la cosa più importante, secondo me, è che lì uno dei probabili assassini era il procuratore che faceva le indagini a Londra, che era William Westcott, che era il magistrato, il coroner che operava su questi cadaveri, che era uno dei fondatori della Golden Dawn, che è l'organizzazione poi da cui nasce l'Ordine della Rosa Rossa e della Croce d'Oro. Insomma, quindi, proprio, diciamo, anche i personaggi sono quasi gli stessi, le comparse sono quasi le stesse. Sì, 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 non c'è dubbio. Va bene. Grazie, buonanotte. Arrivederla, buonanotte, grazie, grazie. Grazie anche, arrivederla.